Finora l'asta era stata vincolata nel baricentro, quindi il fulcro coincideva col baricentro. Adesso immaginiamo invece di vincolare l'asta in un punto diverso dal baricentro, come per esempio, vedremo dopo meglio, insomma questi esempi qua, per esempio in questo disegno vediamo che l'asta è vincolata in un punto che non è il baricentro, è un punto che si trova qua. E sull'asta agiscono due forze, una applicata in A e una applicata nel baricentro che è la forza di gravità, la forza peso dell'asta. La cosa che voglio far notare qui, dopo riprenderemo questo esercizio in dettaglio, però la cosa che voglio far notare qui è che i bracci vanno misurati a partire dal fulcro e non dal baricentro, per esempio il braccio di questa forza, di FA, è questo qui e sarebbe sbagliato misurare il braccio a partire dal baricentro, quindi non è questo il braccio, ma è soltanto da O ad A e allo stesso modo il braccio della forza di gravità è da O a G quindi di nuovo ribadisco che i bracci vanno sempre misurati a partire dal fulcro e non dal baricentro.